Questo video riguarda i migliori tre utili gadget da casa. Il vincitore della qualità è l'Onzin Coltello, con 16 funzioni da pinze a cacciaviti, pinze normali, tronchesi, lama, cacciavite a croce, ecc. Utilizzare questa pinza multitool per fissare e riparare quasi ogni tipo di casa è grande per necessità di sopravvivenza. Realizzato in acciaio inossidabile per prevenire la ruggine, questo utensile è progettato con impugnatura ergonomica antiscivolo, che garantisce prestazioni affidabili a lungo termine. Vengono forniti con 9 pezzi di cacciavite e connettore magnetico, pronti per essere trasformati in un cacciavite per soddisfare le diverse esigenze che potresti incontrare. Tutti i piccoli attrezzi possono essere piegati facilmente senza occupare molto spazio e c'è una borsa in nylon che può essere attaccata direttamente alla cintura e alla borsa per un facile trasporto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Ampure bracciale. 15 magneti più forti nel cinturino magnetico Ampure per viti sono molto più potenti di altri braccialetti magnetici simili di altre marche. Il magnete da polso circonda quasi tutto il polso per tenere viti, chiodi, bulloni, martelli, trapani, elementi di fissaggio, perni, chiavi e rondelle. Perfect Practical deve avere regali per gli uomini. I gadget magnetici da uomo sono un regalo sorprendente e sorprendente per gli uomini del papà quando lavorano nell'edilizia, nella ristrutturazione di case, ecc. Due tasche uniche con cinturino magnetico in canapa per tenere gli attrezzi con due piccole tasche, anche come grande aggiunta a oggetti non magnetici e parti in plastica. Mani libere, fantastico risparmio di tempo, semplice ed efficace porta utensili magnetici per uomini non dovrai più correre avanti e indietro continuamente per ottenere strumenti e parti, e non dovrai più tenere penne di pressione o chiodi in tasca o in bocca. Il vincitore del premio è il Sufan chiave universale. Sia che si tratti di un professionista o di un artigiano per hobby, verrà utilizzato chiave universale set di chiavi a bussola universale adatto per standard da un quarto a tre quarti incis ed adometrico da 7 mm a 19 mm e altri oggetti di varia forma e dimensione. Per tutti gli strati del pavimento, conciatetti, tecnici di elettronica, meccanici, ingegneri meccatronici, montatori, carpentieri, falegnami come strumento è perfettamente adatto. Chiave universale è realizzato in acciaio al cromo e ad alta resistenza e molto resistente. Con chiave universale è possibile concentrarsi sul lavoro importante di nuovo. Il perfetto Amazon regali per gli uomini. Il regalo unico per l'uomo, padre, amico, amico, papà, nonno, tutto fare o tutto fare nella loro vita per la festa del papà. Regali di Natale per gli adulti o per il trentesimo, 40 gradi, 50 gradi, 60 gradi compleanno che la persona amata è garantita non avere. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.